Prosegue con il primo turno la competizione tricolore in Serie D, Alditella e Vasto Girardi Vastese. Alto Molisani di nuovo con il favore del campo vogliono un'altra consacrazione. Dopo quella di sette giorni fa a scapito del Termoli dirige il signor Scarpati della sezione di Formia. Prima del fischio d'inizio la società di Patron di Lucente porge un omaggio a Modestino Vespa, ragazzo stroncato da un malore nei giorni scorsi che in passato ha vestito i colori giallo-blu ad indossare una maglia in suo ricordo, il capitano Sergio Ruggeri. Avvio di gara sotto la pioggia. All'ottavo Ruggeri inizia a prendere le misure su una situazione da fermo dalla tre quarti. Peter Resi la sbroglia in due tempi. Al dodicesimo di nuovo i locali Hernandez Pennella per lo russo che sfiora soltanto sotto misura. Non stanno a guardare le ragonesi al quattordicesimo Sansone per la testa di Busetto. Pallone alto al diciottesimo piazzato battuto da Favo. Dalla destra Petricione padrone della propria area di rigore. Minuto 21 corner per i locali. Contatto tra Gallo ed Altobelli per Scarpati. Nessuna irregolarità. Al ventiseiesimo avanzata di Canale il terzino classe 2004 opta per una rasoterra per nulla producente. Al trentatresimo dall'altra parte Busetto riceve sulla sinistra ma spreca senza attendere l'arrivo dei compagni. 37 Vasto Girardi con Hernandez che si coordina da fuori ma calcia troppo sul portiere e 0 a 0 all'intervallo. 2.50 nel corso della ripresa. I padroni di casa con Hernandez che va in percussione. Si accentra una deviazione sul tiro. Semplifica il compito a Pitarresi. Al quinto il lancio di Calemme a cercare lo russo che manca il bersaglio grande. Undicesimo Busetto torna a rendersi pericoloso con il gioco aereo su una cross dalla sinistra sbagliando però la mira. Al quarto d'ora ghiotta Chance per il giallo-blu. Canale smista al centro ribatte corto la difesa ospite. Hernandez di prima manca la porta. Al 22esimo occasione creata da Canale che prova a piazzarla. Pitarresi smanaccia in tuffo. Al 27esimo gara che vive la svolta all'orché del penalty concesso ai locali in virtù del falo di Bracaglia. Ai danni di Calemme dagli 11 metri lo russo di potenza e precisione. Rasoterra che spiazza il portiere per l'1 a 0 del Vasto Girardi. Al 34esimo Calì rifila un colpo proibito a Fiori rimediando un rosso diretto vastese che resta in 10 uomini. Al 42esimo Calemme vuole coronare con un gol la sua prestazione ma il suo destro a giro è da dimenticare più nulla di considerevole fino al 94esimo minuto del segnale di chiusura. Vince 1 a 0 il Vasto Girardi e continua il sogno tricolore.